Buongiorno Davido, allora riprendiamo un attimo l'argomento della puntata di ieri, abbiamo parlato un po' di threads, no? Questa nuova app lanciata da Meta, o meglio da Instagram perché è parte dell'ecosistema di Instagram e quindi grande lancio, tutti contenti, tutto bello, a parte Elon Musk, poi lo vediamo. C'è una piccola curiosità che volevo farvi notare perché casualmente ho seguito ieri sera la puntata del TG La 7 delle 20 e cosa è venuto fuori? Adesso vi faccio vedere il servizio che il TG La 7 ha mandato su threads a parte che il TG La 7 carica su YouTube le puntate a 720p, non ho capito come mai comunque, ah mi spiace per tutti quelli che stanno soltanto sentendo il podcast e non stanno guardando perché la cosa importante è guardare, vedete queste immagini? Stato facendo vedere delle immagini promozionali di un'app che si chiama infatti threads ecco qua il logo di threads, qual è il problema? Che non è il threads di Instagram e di Meta ma è threads che è un'altra app che si chiama threads che è nata molto tempo prima, insomma un po' di tempo fa ed è una specie di alternativa a Slack, caro Mentana La 7, non è questo threads, non è il threads di Instagram e insomma, a parte immagini di Elon Musk di parecchi anni fa, ma va bene ma comunque non è questo, avete sbagliato? E vabbè, capita, tutti possono sbagliare però insomma, era divertente, l'ho notato in diretta e quindi mi divertiva farlo notare, va bene comunque, per chi sta seguendo solo in audio non avrà visto niente però se vi informo, magari non lo sapete, ma se state ascoltando su Spotify potete anche guardare il video, cioè su Spotify c'è anche il video quindi se questo piccolo estratto, questo momento vale la pena di essere visto ecco, e c'è il videino su Spotify, va bene comunque, al di là di questa cosa divertente threads, appena lanciato, ha fatto il botto, apparentemente nel senso che ha sbancato le classifiche di vendita è stata una delle, a quanto pare, una delle app più scaricate di sempre nelle prime ore e ha tirato su ben 30 milioni di utenti in 24 ore e tra l'altro, escludendo tutta l'Europa, perché in Europa abbiamo detto che non c'è e quindi senza l'Europa, ha tirato su un bel po' di milioni di utenti questo nonostante alcuni problemi che sono emersi e infatti, adesso riepiloghiamo un pochino di problemi allora, il primo problema naturalmente è di natura legale nel senso che Elon Musk ha minacciato di citare in giudizio di denunciare, di intentare causa contro Meta e contro threads perché appunto threads è una sputolata copia di Twitter questo è sotto gli occhi di tutti, per il design dell'app anche per le funzioni che riporta e quindi abbiamo anche questo, l'articoletto se volete approfondire su Ars Tecnica di Musk che minaccia appunto di citare Meta per quello che definisce un copycat di Twitter che quindi threads Meta naturalmente respinge tutte le accuse ma è abbastanza evidente non che gli altri non facciano la stessa cosa perché ultimamente le app di social networking che prevedono testi, messaggi di testi con risposte e con delle immagini si somigliano un po' a tutti diciamo la verità, sono tutte un pochino ispirate a Twitter anche Mastodon nel suo essere un po' innovativo però l'interfaccia dell'app di Mastodon è abbastanza identica a quella di Twitter e quindi è abbastanza difficile negare questa evidenza d'altra parte vediamo a livello legale se è possibile per Twitter fare qualcosa per proteggere questa sua proprietà intellettuale ma insomma questa è soltanto la parte legale della vicenda però ci sono altri problemi, altre critiche innanzitutto ci sono preoccupazioni sulla privacy la privacy e la security dei dati perché Meta ha ammesso che threads raccoglie una serie di informazioni personali degli utenti quindi la posizione geografica, le preferenze di consumo le abitudini online e anche le interazioni con gli altri utenti sono dati che poi vengono usati naturalmente per personalizzare gli annunci pubblicitari e poi fornire anche servizi aggiuntivi come realtà aumentata a traduzione automatica e poi ci sono alcuni problemi tecnici ancora ma ovviamente l'app è molto giovane quindi ci sono problemi tecnici, problemi di usabilità c'è un caricamento lento di alcune immagini, dei video c'è ancora l'impossibilità di modificare o eliminare i post mancano alcune funzionalità presenti su Twitter come liste, sondaggi, live, quindi le dirette poi ce n'è una che è abbastanza peculiare che ha sollevato abbastanza l'ira di alcuni utenti che è la difficoltà nella cancellazione dell'account su threads una volta aperto l'account su threads infatti per eliminare definitivamente l'account, il profilo e i dati su threads bisogna cancellare anche il proprio account su Instagram perché questi due sono legati, sono molto correlati threads è considerato parte integrante dell'account Instagram e quindi al momento gli utenti possono soltanto disabilitare disattivare il proprio profilo su threads oppure impostarlo come privato però Meta adesso ha dichiarato di essere nel lavoro per introdurre una funzione che permette di cancellare il proprio account su threads senza intaccare quello di Instagram, quindi separatamente poi c'è un'altra piccola lamentela che riguarda il fatto che non c'è un feed dedicato per gli utenti che si seguono su Instagram solo per gli utenti che si seguono su Instagram quindi nel feed principale vengono mostrati tutti i post di utenti che si seguono su Instagram ma anche gli altri e quindi non c'è la possibilità di filtrare soltanto quelli che si seguono su Instagram e soltanto quelli che si seguono su threads quindi è un po' mischiato questo diventa un feed piuttosto caotico ma naturalmente è una cosa che potrebbe migliorare in futuro e poi come chiude diciamo l'articolo su Ars Tecnica ci sono le preoccupazioni sulla privacy che citavamo prima e che hanno portato l'Unione Europea a escludere per il momento almeno l'ingresso nel mercato di threads sono in realtà al vaglio anche della FTC e quindi della autorità statunitense e quindi non è detto che ciò che ha portato l'estruzione in Unione Europea non si applichi anche ai Stati Uniti si vedrà volevo anche in realtà chiudere questa puntata con una nota tecnica su threads perché Luca Schlanga che è questo signore qui che vedete per chi sta guardando il release manager di Python 3.8 e 3.9 ha twittato una cosa interessante cioè che tutto il back-end di threads come anche in realtà aggiungo io tutto il back-end di Instagram perché è stato già insomma dichiarato da meta è stato costruito con Python con Python 3.10 in realtà con un fork di Python di CPython che si chiama Cinder ed è stato creato proprio in Facebook eccolo qua questo è il repo GitHub di Cinder Cinder è open source ed è proprio una versione di CPython 3.10 con una serie di ottimizzazioni di performance con caching del bytecode un just-in-time compiler anche un compiler sperimentale di bytecode con type annotations e insomma tutto mirato naturalmente ad aumentare le performance non è un prodotto che si possa diciamo usare in altri progetti in produzione non è pensato per questo non è pensato come un tool che possa sostituire Python è proprio dichiarato da meta in questo repo ma questo repo serve più che altro per permettere alla community di contribuire ma anche di fare eventuali upstream a Python stesso quindi per questo è stato reso è stato reso open source però è interessante vedere come sono costruiti i back-end di questi servizi qua abbiamo soprattutto Python tra l'altro adesso non ho il link qua sotto mano ma sappiate che si è visto si è scoperto che il front-end invece di Threads è stato realizzato almeno in parte con React Native che ovviamente non stupisce nessuno visto che React Native è un progetto proprio di meta e Threads è un'app mobile quindi assolutamente non ci stupisce però è una nota interessante da sapere chiudiamo questa puntata soltanto con una piccola curiosità si è saputo che il nuovo visore di Apple no Vision Pro probabilmente non rispetterà le stime di vendita queste stime di vendita sono state tagliate perché a quanto pare costruire, assemblare questo visore è parecchio più complesso del previsto e il principale collo di bottiglia sono i display micro OLED quindi c'è stata una revisione al ribasso degli obiettivi di vendita di Vision Pro adesso si sta si pensa che l'assemblatore che è LuxShare non costruirà più di 400.000 unità nel 2024 questo è un dato riportato dal Financial Times e quindi ci sono altre due aziende cinesi fornitrici di altri componenti del visore che hanno ricevuto ordini da Apple per al massimo 150.000 unità nel primo anno e quindi proprio la difficoltà nel costruire i display micro OLED è il punto più importante ci sono indiscrezioni che secondo cui sono Sony e TSMC che sono i fornitori di questi due display 4K in ciascun visore siccome Apple punta tantissimo su questi display sulla maggior qualità di immagine possibile c'è un'elevata percentuale di scarti e quindi questo comporta appunto inefficienza di produzione eccetera a questo punto gli analisti hanno anche stimato un costo complessivo di costruzione assemblaggio di Vision Pro in 1500 dollari quindi questo anche per dare un'idea del perché il costo così elevato del prodotto al pubblico e adesso sappiamo anche che ci saranno meno sul mercato di questi prodotti ecco non ci saranno non sono in target con l'oltre milione di unità che Apple aveva previsto ecco qua tutto qua quindi volevo chiudere con questa newsettina e chiudiamo anche la settimana a questo punto quindi grazie mille a tutti quelli che mi hanno seguito durante le puntate di questa settimana e durante questa puntata e quindi spero che sia stata gradita e noi ci vediamo dopo il weekend quindi fate i bravi e credo lunedì o se no chi lo sa vedremo ciao 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 ciao